La scuola fuori dalla scuola e poi riportarla di nuovo dentro la scuola anche al di là dei limiti naturali e giuridici, diciamo. Avrebbe dovuto lasciare, avrebbe potuto lasciare e continuava a non farlo. Che commozione a rivederlo qua sorridente con la severa sorridente faccia a cui noi stiamo chinando la nostra mano con questa carezza che vuole essere questa settimana, queste giornate. Le professoresse Bertolino e Tiranno hanno messo insieme molto elegantemente e direi con molta grazia alcune parti di discorso. La seconda, l'avete riconosciuta, è il congedo del viaggiatore cerimonioso, quel Giorgio Caproni a cui tanto ha dato Pippo Lomanto, perché tanto Giorgio Caproni ha dato a lui. Caproni è scomparso il 22 di gennaio del 1990, l'abbiamo ricordato in normale quest'anno, il 22 gennaio 30 anni dopo. E queste scomparse vogliamo dire che ciascuno ormai canta il canto dell'altro. E il controcanto, speriamo, Marilena La Rosa se ne sta parlando con la sua formidabile capacità organizzativa, speriamo l'anno prossimo di poterlo rimettere in azione, anche te dico Elina Sacco Messineo. Sarebbe bello riavere magari al Teatro Massimo. Grazie. Da ieri è stato oggi spostato, molto opportunamente, il professor Bernardo Puleio, che sul tema della paternità sarà ancora un po' con l'elogio della paternità a Virgilio, dolcissimo padre, che come sappiamo e abbiamo più volte sentito in questi giorni, è uno dei versi che erano più cari a Pippo Lomanto. Sulla dolcezza della paternità, ha insistito così a lungo Pippo, come si può essere autorevoli e dolci nel contempo. È la grande sfida che Dante ha affrontato, insegnandoci che Virgilio può essere mamma, oltre che padre, e diventando la madre a cui il fantolin corre quando ha paura o quando egli è afflitto, trova nella mamma barra padre quell'aiuto, quel sostegno che faccia sì che la paura si supere. Della paura, vi dico già subito, parleremo ancora oggi pomeriggio con Alessandro Barbero, perché la paura è una delle cose che più dominano la commedia. Dante ha paura, non è affatto un eroe coraggioso, è un uomo che ha paura. E quando ha paura si volge in cerca di padre e madre, e quando trova un dolcissimo padre trova qualcuno che gli trasmette insieme consolazione e futuro, e progetto per il futuro. Professor Puleio, a lei la parola. Buongiorno. È un tipo di tristezza, ma anche al contempo di contentezza, il fatto di ritrovarci qui a parlare di Dante, nome di Pippo che non c'è più, ma che sicuramente sarebbe stato contento di essere ricordato in questa sede, perché questa è la sede e l'occasione migliore per ricordare Pippo. Io ho assistito a quattro edizioni diverse, cioè le ho seguite tutte, ma in quattro sedi diverse. Cominciamo dalla sala professori dell'Einstein, poi ci siamo spostati ai cantieri culturali della Zisa, poi allo Spasimo, infine in questa straordinaria sede. Devo dire che Pippo è stato un maestro e per certi versi anche un padre, il padre di questa iniziativa, indubbiamente. Ma in qualche modo poter studiare Dante, per me, come credo per molti colleghi, ha significato anche molto dal punto di vista didattico e dal punto di vista umano, un rimettersi in gioco, e credo che sia questo il senso dell'insegnamento e dell'essere maestri. Per cui oggi, in qualche modo, a nome della scuola palermitana, essendo un insegnante di liceo, porgo questo saluto e questo omaggio alla memoria del maestro e del padre. Allora, mi occupo di Virgilio, dolcissimo padre, dell'elogio della paternità. Desiravo cominciare da una citazione che riguarda Borges, grande scrittore argentino nel secolo scorso, diceva di avere imparato l'italiano leggendo Dante. Quindi, non su una grammatica, non su un dizionario, ma leggendo direttamente la commedia, mentre si recava in tram a Buenos Aires, alla Biblioteca Nazionale che lui dirigeva. Ma Borges ha anche lasciato un altro scritto, in cui ricorda che tra le tante attività che lui ha svolto, è stato anche un insegnante, l'insegnamento è quello che gli ha lasciato qualcosa di più. Perché? Perché insegnando apprendo, diceva Borges, che è esattamente, più o meno, la testuale citazione e traduzione di un passo di Seneca che troviamo nell'Epistole Morali all'Uscirio, 1.7, omines dum docente discunto. Gli uomini, mentre insegnano, apprendono. Quindi essere maestri significa in qualche modo fare un percorso che ci arricchisce se siamo insegnanti, ci arricchisce se diventiamo maestri perché apprendiamo. E volevo cominciare da un passo famosissimo, che è quello del trentesimo, quando Virgilio è scomparso, versi 49-51. Ma Virgilio non aveva lasciato i scemi di sé, Virgilio dolcissimo padre, Virgilio a cui per mia salute gli emmi. È la prima volta in cui Virgilio viene definito dolcissimo padre. È la prima e l'ultima volta. In realtà la dolcezza di Virgilio come padre viene affermata in altri nuove luoghi diversi della commedia precedenti questo passo. Qualcuno di questi lo esamineremo. Il primo passo, per esempio, è nell'ottavo dell'Inferno, quando Dante si sente quasi abbandonato da un momentaneo allontanamento di Virgilio e si trova in mezzo, il canto di Filippo Argenti, si trova in mezzo a Flegias e si rivolge al dolce padre, ha bisogno della presenza del dolce padre. Si suole dire, nella nostra epoca, che la paternità ha perso una parte di senso, perché troppe volte il padre diventa un amico. E quindi ci immaginiamo che il senso di paternità, per Dante e per uomini di generazioni precedenti, possa e debba avere connotazioni diverse. C'è invece un passo sconvolgente, perché poi la modernità e la sorpresa di Dante è incredibile in molti casi, che è un passo che si trova nella vita nuova. Ed è il capitolo 22, in cui si parla della morte del padre di Beatrice. Ebbene, in questo capitolo viene statuita una filiazione, un rapporto stretto tra la paternità e l'amistà, cioè l'amicizia. È un apax, cioè un'unica volta all'interno delle opere di Dante viene affermato un rapporto tra amicizia e paternità, che ci sorprende per certi versi. Leggo il passo. Appresso ciò non molti di passati, siccome piacque al glorioso Sire, lo quale non negòe la morte a sé, colui che era stato genitore di tanta maraviglia, quanto si vedea che era questa nobilissima Beatrice, di questa vita uscendo alla gloria eternale, se ne giro veracemente, onde con ciò sia cosa che, cotale partire sia doloroso a coloro che rimangono, e sono stati amici di colui che se ne va. E nulla sia sì intima amistade come da buon padre a buon figliuolo, e da buon figliuolo a buon padre. E questa donna fosse in altissimo grado di bontate, e lo suo padre, siccome da molti si crede, vero è, fosse buono in alto grado. Manifesto è che questa donna fu amarissimamente piena di dolore. Dunque, il maggiore grado di intimità e di amicizia è quello del rapporto del buon padre col buon figlio. E va anche detto che c'è un altro passo di Dante in cui viene definito il senso di paternità. Stavolta ci troviamo in convivio dodici, e il padre a cui allude Dante è il volgare. Tanto è la cosa più prossima quanto di tutte le cose del suo genere altrui è più unita. Onde di tutti gli uomini lo figlio è più prossimo al padre. Di tutte le arti la medicina è più prossima al medico e la musica al musico, però che a loro sono più unite che l'altre. E di tutta la terra è più prossima quella dove l'uomo tiene sé in medesimo, però che è adesso più unita. E così lo volgare è più prossimo quanto è più unito. Che uno è solo e prima nella mente che alcun altro. E che non solamente per sé è unito, ma per accidente, in quanto è congiunto con le più prossime persone, siccome con gli parenti e con i propri cittadini e con la propria gente. Allora, viene fuori un'altra connotazione di intimità assoluta che è quella del rapporto paterno e filiale tra la lingua e il bambino e il cittadino che dovrebbe imparare fin da piccolo. In altri passi, anche qui, la complessità e l'unità genitoriale viene affermata da Dante quando dice che il bambino fin nella culla viene allattato maternamente all'utilizzo delle parole del volgare. Così come ci ricordava prima il professore Bologna nel trentesimo del Purgatorio Dante elogia Virgilio come esempio di padre e madre. Paternità e maternità costituiscono una sorta di unità genitoriale che Dante sembra affermare nei due passi che citavo prima in relazione al concetto di amicizia inteso come intimità e possibilità di scambio reciproco tra il padre e il figlio e in relazione alla lingua al volgare che dovrebbe essere ed è nell'intenzione di Dante il punto di riferimento il timone fondamentale. E allora proviamo a vedere anche la connotazione del dolcissimo padre in che senso la paternità è e può essere dolce secondo Dante. Intanto osservo che in 26 l'inferno il canto famoso di Ulisse la dolcezza viene anche attribuita al figlio. Quando Virgilio chiede quale sia stata la fine di Omede e di Ulisse Ulisse racconta la sua storia e dice che neanche la dolcezza del figlio né la pieta verso il padre né l'amore dovuto verso la moglie riuscirono a trattenerlo dal desiderio. Quindi la dolcezza non è soltanto è un rapporto di reciprocità nel rapporto padre figlio non è soltanto il sentimento che può provare il figlio Dante nei confronti del padre Virgilio ma è un sentimento ampiamente anche ricambiato da parte del padre. Ricordiamoci che nel primo dell'inferno quando Dante trova Virgilio Virgilio non è il padre è il maestro è l'autore sulla base quindi direi canonica del principio di Autoritas è il modello esemplare l'exemplum versi 79 87 di Inferno 1 or sei tu quel Virgilio e quella fonte che spandi di parlarsi il largo fiume risposi io lui con vergognosa fronte o degli altri poeti onore e luma vagliami il lungo stile e il grande amore che mi ha fatto cercare lo tuo volume tu sei lo mio maestro e il mio autore tu sei solo colui da cui ho tolsi lo bello stile che mi ha fatto onore si parte dal maestro e si arriva al dolcissimo padre che ha lasciato Dante nel trentesimo del purgatorio l'ultimo intervento di Virgilio si ha nel ventisettesimo del purgatorio poi Virgilio assiste in silenzio agli ultimi due canti e poi scompare c'è il congedo che avevo letto prima da parte di Dante nei confronti del dolcissimo padre e quando Virgilio scompare l'ultimo intervento di Virgilio nel ventisettesimo è quello che sancisce la piena autonomia del figlio il padre ha seguito il figlio il figlio è altra cosa diversa dal padre e su questo c'erano stati anche lunghi interventi nel demonarchia da parte di Dante quando aveva parlato del rapporto tra il papa e l'imperatore un rapporto in cui l'imperatore deve comportarsi come un figlio e mostrare rispetto nei confronti del padre ma nella consapevolezza che il figlio è altro dal padre una difesa in quel caso della autonomia e della laicità dello Stato dalle interferenze religiose non aspettar mio dir più nel mio cenno il ventisette purgatorio versi 19-22 libero diritto e sano e tu arbitrio e fallo fora e non fare a suo senno poiché io te sovra te corona in mitrio cioè Dante è l'imperatore il papa di se stesso come a dire il riconoscimento di quelle due figure che sono fondamentali nella formazione dell'individuo e che il buon padre dovrebbe indicare nei confronti del figlio l'aspetto morale da una parte e dall'altro la felicità terrena non è un caso che nella monarchia Dante alluda al raggiungimento della felicità sulla terra anticipando di parecchi secoli quello che sarà un elemento costituzionale della costituzione americana allora cerchiamo di capire quando e come questo Virgilio comincia a diventare dolcissimo diventa in realtà prima dolce padre inferno 8 versi 109 110 Dante si sente abbandonato accerchiato da Flegias e per la prima volta dichiara così sembra è qui ma abbandona lo dolce padre quindi è dolce padre e percepisce la dolcezza nel momento dell'abbandono così come nel momento dell'abbandono definitivo in purgatorio 33 il padre è diventato dolcissimo in nessun altro canto dell'inferno Virgilio è definito dolce padre invece in purgatorio 4 versi 44 48 Dante ha bisogno di una guida come sempre ha bisogno di Virgilio anche se poi nel purgatorio questa guida viene meno per certi versi o è più insicura e comunque rivolgendosi a Virgilio dice o dolce padre volgiti e rimira come io rimango solo se non restai cioè ha di nuovo paura di essere abbandonato nel momento dell'abbandono il figlio percepisce la dolcezza e la pienezza della presenza del padre figlio il mio disse quindi sempre in questi versi 44 448 del canto quarto del purgatorio disse Virgilio in quivi ti tira e allora anche padre anche Virgilio riconosce in questo momento la paternità e forse in questo momento il maestro comincia a diventare il padre c'è meno di stacco tra le due figure forse anche Dante lo percepisce non solo come la guida o l'exemplum letterario e il retorico da cui ha tratto il bello stile ma lo percepisce come una presenza attiva nella vita di tutti i giorni ed è questa la funzione del maestro che dalla sua esemplarità retorica e letteraria scende e si fa carne viva nella vita e nel percorso dell'allievo figlio in questo caso purgatorio 15 vorrei sottolineare la centralità nelle tre cantiche del canto 15 e quello che è oggetto di questo convegno l'immagine paterna di Brunetto Latini nel quindicesimo dell'inferno l'aggettivo paterna ritorna un'altra sola volta nella commedia in Paradiso 15 la paterna festa che rivolge Cacciaguida a Dante e però nel quindicesimo e quindi c'è come dire una sorta di percorso ideale che porta da Brunetto Latini a Cacciaguida e peraltro Brunetto Latini viene esaltato perché ha spiegato a Dante come l'uomo si eterna vero è che Brunetto Latini si trova all'interno dei peccatori di sodomia che Dante tratta con un certo disprezzo ma è anche vero che sembra che la scrittura della commedia fornisca una ripartizione bipartita da un lato c'è l'elemento teologico con la possibilità della condanna dell'assoluzione o dell'esaltazione della figura dei personaggi incontrati dall'altro lato c'è la riscrittura poetica che sembra dare al personaggio soprattutto se il personaggio è oggetto di una lunga trattazione un quadro ben definito di esaltazione a prescindere dall'eventuale colpa teologica pensiamo di nuovo a Inferno 26 quando Virgilio fa da mediatore con i due greci si rivolge a Diomede e a Ulisse e rivolgendosi a Ulisse dice se io meritai cioè se io ho dei meriti perché ho parlato di te Ulisse rispondi alla mia domanda che è la domanda poi di Ulisse come è andato qual è stata la fine come è andato a morire Ulisse in realtà se ci pensiamo bene non ci sono particolari meriti da parte di Virgilio Virgilio ne ha parlato malissimo di Ulisse come un ingannatore un personaggio machinato Fraudis un personaggio Celestus eccetera ma ne ha parlato e cioè è la scrittura in qualche modo che consente al personaggio al di là della connotazione morale di assumere una posizione di rilievo lo rivediamo anche in Inferno XIII quando si parla di Pier delle Vigne e in qualche modo Dante spia la colpa di avere spezzato un ramo da cui è fuoriuscito il sangue del povero Piero proprio permettendo alla persona a suicida morto di poter parlare della sua vicenda la riscrittura poetica ridà quella fama quel non omnis moriar di Oraziana Memoria che appartiene a una concezione certamente laica e certamente in contrasto con il concetto della poesia che doveva essere secondo una certa opinione medievale uno strumento ancillare per raggiungere Dio qui invece c'è già un contrasto tra antico e moderno e anche una proiezione probabilmente di Dante verso una raffigurazione preumanistica e allora ritorniamo alla figura di questo dolcissimo di questo dolce padre in Purgatorio 15 versi 25 e 27 Dante è accecato e si rivolge di nuovo alla sua luce che è quel dolce padre a che non posso schermarlo viso tanto che mi vaglia ancora in Purgatorio versi 124 15 in Purgatorio 15 124 126 lo sguardo di Dante nella cornice degli iracondi è velato e si rivolge a Virgilio o dolce padre mio se tu mi ascolte io ti dirò e poi in Purgatorio 17 versi 82 83 dolce mio padre di quale offenzione si purga qui nel giro dove semo Purgatorio 18 versi 7 9 Virgilio padre di verità ma quel padre verace che si accorse del timido voler che non sapriva parlando di parlare a dirmi porse e sempre qui in Purgatorio 18 versi 13 15 però ti prego dolce padre la verità che il padre svela al figlio è accompagnata all'idea della dolcezza e si potrebbe anche proseguire con Purgatorio 23 versi 4 6 addirittura in questo canto di nuovo il dolce padre affermato due volte al verso 13 Purgatorio 25 è di nuovo riaffermato non lasciò versi 16 18 non lasciò per l'andar che fosse errato lo dolce padre mio di nuovo è affermata qui quindi la centralità della funzione del padre in realtà abbiamo visto anche un'altra figura paterna ma completamente diversa che è quella di Catone nel primo canto del Purgatorio questa figura che incute un certo timore reverenza dice Dante quanta reverenza deve il figlio al padre è di nuovo riaffermato un'idea paterna ma in un senso di severità e non di amistà come in precedenza e in realtà i due campi restano completamente diversi questa è una paternità talmente superiore e trascendente che Dante non riesce ad entrare nel rapporto di confidenza che riesce invece a instaurare con Virgilio e non è un caso che peraltro poi Catone rimprovererà Dante e Virgilio nel corso del secondo canto accusandoli di essere anime pigre in realtà probabilmente la distanza che si misura tra Dante e Catone è una distanza che deriva dalla lettura di Seneca nel De Costanzia Sapientis Catone è rappresentato quasi come un prototipo un martire dell'idea della libertà e le fiammelle sante di cui parla Dante e che ne circondano la fronte probabilmente sono mutuate da questa idea così altisonante del laico martire irraggiungibile c'è un momento in cui però l'idea di paternità crolla nell'inferno ed è nel canto di Ugolino quattro volte viene ripetuta la parola padre in termini disperati dai figli e dai nipoti il padre non è in grado di aiutare i figli e per di più il contesto è rappresentato in termini assolutamente ambigui sull'eventuale episodio di antropofagia e così via ma in realtà lì Dante ha di mira una denuncia forte che è lo snaturamento di Pisa Pisa ricordato e che è stato un amico di questa manifestazione e che era Pisano ricordava che quando da bambino leggeva questo canto di fronte a questa affermazione che lo colpiva da Pisano il padre gli diceva niente qui Dante scherza rientriamo in quella logica municipalistica e di confronto tra le città toscane lì è lo snaturamento di Pisa che fa sì che il padre non possa aiutare i figli e che ci sia una condizione assolutamente disumana per cui i padri e i figli vengono colpiti in una maniera inaccettabile se nel 27esimo del Purgatorio Virgilio ha esaltato Dante lo ha quasi come dire abbandonato perché il ragazzo ha il figlio ha raggiunto la sua piena autonomia nel 27esimo del Paradiso invece assistiamo a una situazione completamente diversa c'è il famoso sfogo di San Pietro per la corruzione della Chiesa e Pietro può in un certo senso essere assimilato a una figura paterna cioè il padre della Chiesa e l'imbettiva di quel 27esimo canto contro la Chiesa ridotta a Cloaca è uno dei passi più sorprendenti rispetto al concetto di totale armonia che dovrebbe dominare e che domina in larga parte del Paradiso versi 19-27 lì il padre è severo quando io dì se io mi trascolor non ti maraviglia che dicendo io vedrai trascolorare tutti i costoro quelli che usurpa in terra il luogo mio il luogo mio il luogo mio che vaca nella presenza del figlio di Dio fatta del cimitero mio cloaca del sangue della puzza onde il perverso che cade di quassù laggiù si placa chi usurpa il luogo di Pietro ovviamente è il Papa quindi è un'accusa indifferenziata sembra almeno così verso una lunga prassi di corruzione della Chiesa aggiungendo quasi alla conclusione volevo anche ricordare un'altra cosa dolcissimo padre questo aggettivo dolcissimo ricorre in Dante in alcuni passi ricorre per esempio nella vita nuova quando si parla del dolcissimo signore che è amore e che o del dolcissimo effetto che ha il salutare di Beatrice nei confronti di Dante quindi dolcissimo è legato a un sentimento di amore e di ammirazione ma attenzione alla fine del convivio in convivio 30 dolcissimo è l'attributo che connota lo sguardo della filosofia e si potrebbe forse in definitiva dire che il percorso del figlio che segue il maestro e che segue il padre acquisisce tanto più di dolcezza quanto acquisisce più di sapienza nell'autonomia grazie grazie grazie